Diciamo intanto che quando ci siamo insediati non c'era nessun comune vendibile, nonostante che il contratto per la banda ultralarga che è stato finanziato con i fondi PORP risaliva al 2016. Quindi almeno tre anni di ritardi reali sui cantieri. Dal metà del 2020, cioè dall'ottobre che ci siamo insediati, sono stati oggi resi vendibili 73 comuni con un impulso che ha messo questa amministrazione. Abbiamo fatto diverse riunioni con Open Fiber, alcune anche dure, però nell'interesse dei cittadini perché la connessione a casa in banda ultralarga è il vero divario sociale. L'abbiamo visto con la DAD, con le riunioni, avere la connessione specialmente nelle aree bianche, cioè nelle aree di montagna, nelle aree più a dispersione, dove c'è più fatica a essere connessi e a poter vivere la dimensione della grande città. Noi abbiamo insistito molto che Open Fiber completasse tutti i cantieri. Oggi, dopo anche una riunione importante che c'è stata con l'amministratore delegato che è venuto qui ad Ancona, abbiamo concluso che gli ultimi 100 comuni che mancano per coprire tutte le aree bianche verranno realizzati entro i prossimi 18 mesi. Su questo poi si innesteranno gli altri bandi che sono previsti all'interno del PNRR per la digitalizzazione delle aree grigie, cosiddette, in cui le gare sono state appena bandite dal Ministero dell'Innovazione e il risultato si attende all'incirca per il mese di giugno. Quindi nel mese di giugno si saprà effettivamente come si andranno a realizzare anche la copertura delle aree grigie. Le Marche hanno una situazione che è piuttosto buona rispetto alla media nazionale, sicuramente sulle aree bianche da un punto di vista della realizzazione. Sicuramente è una regione piccola, sia del territorio che da un punto di vista della densità abitativa, quindi del numero di comuni. Tutto il programma sulle aree bianche riguarda circa 220 comuni, quindi è uno sforzo importante, ma è uno sforzo dove già traguardiamo la realizzazione del piano nell'ambito dei prossimi 18 mesi.